Musica Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG6 in apertura. Torniamo a Sulmone in Valle Pelinia per continuare ad occuparci della vicenda del gasdotto Snam che dovrebbe essere costruito proprio nei pressi di Sulmona. Il sindaco della città Pelinia, Anna Maria Casini, ieri ha formalizzato le dimissioni da primo cittadino. Domani andrà ad incontrare il premier Gentiloni a Roma a cui riconsegnerà la fascia da sindaco ma soprattutto a cui chiederà di tornare indietro rispetto alla autorizzazione rilasciata qualche giorno fa. Sentiamo l'intervista realizzata proprio al sindaco di Sulmona da Paolo Renzetti. Sindaco, quali sono i motivi che l'hanno portata a presentare le dimissioni da primo cittadino di Sulmona? Un'opera particolarmente impattante collegata all'opera del metanodotto della rete gas, rete gas adriatica, che da Brindisi fino a Minervio percorrerà circa 700 chilometri di tutto l'asse appenninico. aree fortemente sismiche, la nostra è un'area in cui incidono ben tre faglie, estremamente pericolosa, un'area di grande valore naturalistico, quindi quest'opera porterà dei grossissimi danni e farà sostenere dei pesantissimi costi ad una comunità oggi in grande difficoltà. Tutto questo è inaccettabile, è inaccettabile che un governo prenda decisioni passando sopra la testa delle comunità locali, non ascoltando un sindaco che è l'espressione della cittadinanza che rappresenta, e un sindaco quindi non ha strumenti per poter decidere, poter portare avanti quelle che sono le identità, le azioni di sviluppo del proprio territorio. Quindi questo mio atto è stato un estremo atto di protesta contro proprio un sistema che oggi decide opere di questa natura contro un territorio e senza concordarla con il sindaco del territorio stesso. Al momento ad oggi si tratta di dimissioni irrevocabili. Cosa dovrebbe a questo punto accadere domani affinché lei possa recedere da questa decisione? Domani andrò a Roma perché spero di poter parlare direttamente con il Premier e sapere da lui, chiedergli formalmente di direvocare questa decisione. Molti parlano di dimissioni di pancia, dimissioni arrivate così all'improvviso. Lei ha letto le carte, ha visto quali sono le prescrizioni di questo progetto? Le carte sono disponibili ormai da anni, come le dicevo sono procedimenti che stanno andando avanti da anni. Intorno a me, grazie anche a questo mio gesto, sto ricevendo veramente manifestazioni di solidarietà e di sostegno non solo da questo territorio ma anche dalla Puglia, dall'Emilia Romagna. Insomma intorno a quest'opera c'è un corale no. Le opposizioni regionali dicono, vi accusano di esservi mossi troppo in ritardo, qual è il suo pensiero a proposito? Le opposizioni regionali sono le stesse che forse qualche anno fa governavano la regione Abruzzo e qualche anno fa, per esempio nel 2011, hanno consentito che si approvasse il decreto di autorizzazione della via senza neanche fornire un parere e disertando anche le conferenze dei servizi. Qui purtroppo le responsabilità sono veramente molto diffuse, sono diffuse e sono attribuibili veramente a tutti i colori politici. Quindi io mi guarderei bene oggi da strumentalizzare e fare polemica su una vicenda così grave e così importante per questo territorio e per l'intera regione Abruzzo. Andiamo avanti con la politica regionale perché questa mattina c'è stata una conferenza stampa del presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso, che ha annunciato l'arrivo in Abruzzo di 7 milioni di euro per 11 progetti, soldi stanziati dal Cipe e che saranno destinati soprattutto all'edilizia scolastica. D'Alfonso ha anche parlato della vicenda del gasdotto SNAM in Valle Peligna, ribadendo la sostanziale contrarietà della regione Abruzzo all'opera e ha indicato due percorsi paralleli, l'azione politica di persuasione sul governo e dall'altro lato il ricorso al Tare e dunque le vie legali. Sentiamo il servizio. Il Cipe ha deliberato di assegnare all'Abruzzo fondi per 7 milioni di euro che saranno destinati a finanziare 11 progetti sul territorio regionale. La gran parte dei quali riguardanti l'edilizia scolastica e quanto ha annunciato questa mattina a Pescara il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Tra gli interventi principali la realizzazione a Montesilvano della palestra del liceo scientifico per un importo di 1 milione e 400 mila euro. Stessa cifra più o meno a Pescara per la realizzazione della palestra del liceo scientifico Galilei. A Fossacesi è invece finanziato il completamento del risanamento idrogeologico dell'area dell'abbazia di San Giovanni in Venere per 500 mila euro. Alla regione invece sono stati assegnati 600 mila euro per l'implementazione del progetto per la realizzazione della piattaforma telematica di acquisto. In questo caso c'è stata una provincia non interessata dal terremoto che è la provincia di Pescara, io direi grazie a Dio, che aveva dei problemi di copertura finanziaria dell'edilizia scolastica e abbiamo fatto segno su tre importanti risultati, gol. E poi abbiamo messo a segno altre risorse per una serie di comuni che stiamo rilevando nel dettaglio, per esempio un contributo straordinario per esigenze di edilizia scolastica a Roccaraso. E poi investimenti nei singoli comuni. Abbiamo fatto noi richiesta per quanto riguarda Caramanico Terme, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Tollo, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Arielli, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Cerchio, abbiamo avuto risorse su tutti i fronti. Il presidente D'Alfonso ha anche colto l'occasione per fare un intervento puntuale rispetto alla vicenda del gasdotto SNAM in Valle Peligna. Queste le azioni che verranno messe in campo da parte di Regione Abruzzo. Si è pervenuti alla competenza del Consiglio dei Ministri in ragione dei dinieghi deliberati da Regione Abruzzo. Io opererò su due fronti, sia sul fronte del Tar, con questa Costituzione, attraverso il meglio della professionalità nazionale, e poi opererò anche dal punto di vista politico ed istituzionale. Ripercorro la strada che ho seguito per quanto riguarda il no a Ombrina di Ferro. Andiamo avanti, adesso voltiamo pagina con la cronaca. Presunto caso di violenza sessuale su una giovane di 25 anni. L'episodio sarebbe accaduto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre all'Aquila. La squadra mobile del capoluogo di Regione sta ancora indagando. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. Una brutta serata per una giovane ragazza di 25 anni, che si è recata al pronto soccorso nella vigilia di Natale, accusando un presunto caso di violenza sessuale. La squadra mobile dell'Aquila sta facendo tutte le indagini del caso, cercando di ricostruire i fatti grazie all'aiuto delle telecamere, che potrebbero permettere di ricostruire il tragitto fatto dall'automobile in cui si trovava la giovane ragazza. La 25enne, una volta recata al pronto soccorso, ha effettuato tutte le visite specialistiche ed è stata poi dimessa. Immediatamente è scattata la denuncia. Trattandosi di un caso così grave e delicato, non si conoscono ancora tutti i particolari, ma la squadra mobile, coordinata dal dottor Tormazzo Niglio, sta lavorando per fare chiarezza. Andiamo avanti con la cronaca. Padre e figlia, rapinatori in banca arrestati dal nucleo operativo della compagnia di Pescara. I due, Antonio Tombion, 53 anni, e la figlia Roberta, di Cappelle sul Tavo, 32enne, devono rispondere di rapina aggravata in concorso ai danni della BCC di Castiglione Messera e Mondo, agenzia di Elice, sempre in provincia di Pescara, che è stata commessa lo scorso 31 di agosto. Dalle indagini condotte dai carabinieri, emerso che Antonio Tombion ha ideato ed eseguito la rapina, mentre la figlia Roberta ha assunto il ruolo di complice. I carabinieri hanno così dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare e detentiva emessa dal GIP del Tribunale di Pescara, Elio Bongrazio, su richiesta del PM Rosalba Di Stefano. A fine agosto, il rapinatore con viso travisato e pistola alla mano ha minacciato i dipendenti, possessandosi di circa 25 mila euro prima di dileguarsi a piedi, raggiungendo, come appurato dalle indagini dei militari, la figlia Roberta a bordo di un'autovettura Renault Kangoo Bianca. Queste le risultanze delle immagini, anche delle telecamere di videosorveglianza. L'uomo è stato trasferito al carcere di San Donato a Pescara, mentre la figlia è stata posta ai domiciliari. Adesso voltiamo pagina, andiamo a vedere il bilancio di fine anno dell'Arta con il direttore generale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, Francesco Chiavaroli, che ha anche annunciato che nelle prime settimane del 2018 ci sarà un nuovo servizio in tempo reale per la pubblicazione dei dati sulla qualità dell'area. Ascoltiamo l'intervista. L'Arta, oltre che lavorare per le istituzioni pubbliche, contribuisce e dà pareri anche per l'avvio e la ristrutturazione di attività produttive. Ad esempio, nell'ultima settimana scorsa, nella settimana precedente a Natale, per dare conoscenza ai cittadini un po' di tutte le attività di Arta, noi abbiamo sottoscritto recentemente anche un'altra convenzione con Terna. Andremo a monitorare con la posizione di una nuova centralina ad Orsonia cosa succede in prossimità degli abitati interessati dalle linee elettriche, cioè sull'incolemento elettromagnetico. Ed è una novità. Altra attività di Arta è quella che dicevo prima di assistenza alle imprese e alle attività produttive. È noto che all'Aquila, ad esempio, abbiamo avuto un ruolo determinante nell'apertura di Accord Fenix, che è un'attività che si occupa all'interno dell'economia circolare di riciclo e riutilizzo di prodotti elettrodomestici, di cavi e di altro materiale. Altre due grandi direttrici dell'Arta, la qualità delle acque e dell'area. Per la prima, il gran sasso è sulla bocca di tutti. È una convivenza difficile, è una cosa anomala, ma ce l'abbiamo. Sono tutte attività assolutamente necessarie per l'Abruzzo, sia quella dei laboratori di fisica e sia quella dell'autostrada. Bisogna farli convivere in maniera tale da non dare nessun problema né alla captazione, né al sistema aviario e alla ricerca scientifica. L'ultima, la qualità dell'aria. Parliamo in particolare di Pescara. Siamo sotto i livelli di guardia per gli sforamenti. Siamo a 32 su 35. Qual è il consiglio che può dare Arta alle amministrazioni per limitare l'inquinamento atmosferico? Dunque, dai dati di oggi, lo dicevamo prima, siamo a 32 sforamenti su 35 previsti nel ciclo annuale della normativa vigente. Il dato va letto in due modi, sia nel numero dei superamenti sia nella quantità del superamento. Nelle altre città italiane ci sono superamenti abbondanti del limite. A Pescara siamo appena sopra se parliamo di Pescara. Consiglio che Arta può dare che in base ai dati che noi diamo, in base ai dati storici e quelli del 2017, io consiglierei un po' ai comuni dell'area metropolitana di consorziarsi o di trovare un sistema che dia possibilità nel momento in cui c'è necessità di adottare dei provvedimenti che siano comuni un po' a tutti i comuni che gravitano su questo territorio. Nuovo piano regionale dei rifiuti ma anche obiettivi per il prossimo anno e consuntivo del 2017. Questo quanto messo nero su bianco nella conferenza stampa di questa mattina a Lanciano di Ecolan con Regione Abruzzo. Vediamo il servizio. In tutti quei comuni dove abbiamo raggiunto percentuali di raccolta difensata oltre il cosiddetto punto di pareggio per esempio Lanciano contrattualmente avevamo un rivisto di raggiungere il 71 siamo al 77% quest'anno ci sarà una riduzione di circa 60.000 euro per il comune e quindi per i cittadini. Fine anno tempo di bilanci anche per Ecolan che proprio indirittura d'arrivo del 2017 ha ricevuto un finanziamento di 12 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti che dovrebbe essere completato entro il 2020 e che consentirà di abbassare i costi di smaltimento da 98 a 70 euro a tonnellata finanziamento che si riverserà anche in altri progetti tra cui l'ampiamento della piattaforma ecologica di Cerratina di Lanciano. Finanziamenti per realizzare il famoso impianto della Forso il 4 dicembre abbiamo ottenuto anche l'autorizzazione integrata ambientale quindi genioio-febbraio pensiamo di far partire la gara europea per proprio realizzare l'impianto. La società interamente pubblica che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti e che conta 53 soci nell'area frentano-sangrina è riuscita a stabilizzare la raccolta differenziata in media attorno all'80,4% risultato raggiunto mantenendo l'equilibrio economico-finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali inutile. Ci proviamo ad essere un esempio c'è qualcuno che insomma mi riferisco chiaramente ai privati che legittimamente ci fanno ricorsi sugli affidamenti adesso siamo diciamo in dirittura d'arrivo al Tar a gennaio si discuterà questo ulteriore diciamo ricorso da parte dei privati ma noi siamo diciamo fiduciosi perché abbiamo ottemperato a tutte quelle che erano le critiche e le richieste del Tar. I vertici di Ecolan sottolineano come il pubblico se vuole sa funzionare senza sprechi e inefficienze il presidente di Ecolan Massimo Ranieri stila gli obiettivi per il prossimo anno abbiamo diciamo progetti anche obiettivi anche importanti cioè ad esempio quella di realizzare ulteriori centri di raccolta finalizzati proprio alla possibilità che l'utente possa andare a vendere il proprio rifiuto direttamente al centro di raccolta e quindi alla fine dell'anno diciamo andare a compensare il costo della Tari con quello che sono i ricavi dovuti alla vendita del proprio rifiuto adesso ci spostiamo a Lanciano sono 1600 le firme raccolte da operatori sociosanitari e ausiliari a conclusione delle sit-in di protesta che hanno effettuato all'esterno dell'ospedale Renzetti di Lanciano firme che i precari porteranno all'attenzione della regione della ASL per chiedere tra le altre cose il riconoscimento dell'anzianità di servizio vediamo insieme il servizio oltre 1600 firme questo è il risultato del presidio permanente e contestuale raccolta di firme davanti all'ospedale Renzetti di Lanciano per la protesta dei 150 lavoratori precari nei settori degli ausiliari e operatori sociosanitari in servizio nei presidi di Lanciano Vasto e Chieti i lavoratori in maggioranza donne assunti da aziende e cooperative esterne chiedono il riconoscimento dell'anzianità di servizio per poter partecipare al concorso pubblico previsto per il 2018 molti dipendenti esterni lavorano nella ASL anche da 15 anni la richiesta è dunque quella di essere riassorbiti e che ai 150 lavoratori vengano riconosciuti gli stessi diritti dei colleghi strutturati con cui lavorano da anni fianco a fianco nelle strutture pubbliche ospedaliere seppure con cooperative private le firme saranno ora consegnate all'assessore alla sanità Silvio Paolucci e all'ASL regionale Daniele Moretti responsabile comunicazione per l'unione sindacale di base Abruzzo presenteremo queste firme all'ASL e all'assessore regionale per la sanità Silvio Paolucci al quale chiederemo di portare avanti e di mettere in pratica due modelli che sono già realtà il primo è quello della regione Lazio che con la legge 4 del febbraio 2017 ha riconosciuto l'anzianità di servizio al personale assunto da aziende cooperative private che lavorano per i servizi in appalto dalle ASL il secondo modello è quello della regione Puglia che prevede diciamo la costituzione da parte della regione e quindi della ASL di una società in house providing quindi partecipata al 100% dal pubblico in diciamo un modello in stile Ecolan che permetterebbe andando a vedere i dati appunto della regione Puglia che permetterebbe un rientro nel bilancio per i debiti e un servizio migliorato per la gestione i diritti dei lavoratori e quindi di conseguenza anche la qualità del servizio per i cittadini torniamo all'Aquila un sollevatore per l'utilizzo della piscina è stato questo il regalo di fine anno da parte dell'amministrazione comunale nella piscina appunto dell'Aquila vediamo insieme il servizio di Germana Dorazio la piscina comunale dell'Aquila da oggi ha un sollevatore che consentirà l'agevole e dignitoso utilizzo anche ai disabili e agli anziani e alle persone in riabilitazione motoria dell'uso della piscina stessa la consegna è stata fatta dal sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi alla presenza del vice sindaco Guido Quintino Liris e dell'assessore allo sport Alessandro Piccinini ringrazio coloro che hanno segnalato la necessità ai settori opere pubbliche e impiantistica sportiva che si sono impegnati affinché l'acquisto fosse effettuato in maniera celere ha dichiarato il sindaco Biondi anche interventi di questa natura concorrono all'abbattimento delle barriere e riducono il grado di disabilità qualunque sia il genere vero è dice Biondi che la disabilità non indica più un assoluto della persona ma attiene il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento se la dignità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole dobbiamo continuare nella direzione di rendere la città accogliente il prossimo passo ha concluso Biondi sarà quello di istituire in comune l'ufficio del disability manager cambiamo decisamente pagina una mostra di presepi dell'artista aquilano Piero Boschetti i paesaggi d'Abruzzo diventano così presepi e questo ciò che ha voluto rappresentare l'artista facendo ricostruzioni di borghi significativi dell'Abruzzo con materiali semplici come il legno il sughero o la pietra vediamo il servizio di Luciana Celeste i paesaggi d'Abruzzo diventano presepi un'esposizione di presepi a Palazzo Fibbioni le creazioni artistiche sono state realizzate da Piero Boschetti e sono creazioni fatte con materiali semplici e naturali come il legno la pietra e il sughero si possono notare giochi di luce musica e tanti piccoli particolari che rendono magiche queste creazioni nelle rappresentazioni di Piero Boschetti si possono ammirare i caratteristici borghi medievali d'Abruzzo villaggi arroccati su cucuzzoli di montagne scene che sanno di antico e ricordano momenti di vita vissuta paesaggi e scorci di natura che evocano nel visitatore profonde emozioni le rappresentazioni hanno voluto dare molto risalto anche alla figura della donna la spiritoria dell'Abruzzo intendo come intendiamo possa essere le nostre montagne possono essere le montagne che danno quell'aspetto così bello come possa essere il Gran Sasso il Sirente le montagne hanno una bellezza unica e quindi riportare nell'arte presepiale ci sta abbastanza bene il pubblico li apprezza perché appunto ho riportato l'arte presepiale in queste bellissime montagne appenniniche adesso apriamo la pagina dello sport iniziamo dal calcio di Serie B questa sera alle 20.30 il Pescara ospita il Venezia per chiudere il 2017 anche il girone d'andata intanto sono già iniziate le grandi operazioni sul fronte mercato valigie pronte per il centravanti Gans e per il portiere Pigliacelli mentre il difensore Cesare Bovo ieri è stato operato al ginocchio e resterà fuori un paio di mesi almeno ascoltiamo Andrea Costantini questa sera il Pescara spera di congedarsi dai propri tifosi con una vittoria una piccola soddisfazione per un pubblico che nel 2017 ha dovuto ingoiare tanti rospi una retrocessione appena due vittorie in Serie A ed una ripartenza con Zeman in questa stagione di B costellata da problemi di chimica di squadra gioco raramente espresso come vorrebbe il Boemo e risultati complessivamente sotto le aspettative con la panchina dello stesso Zeman che è stata pericolante negli ultimi giorni anche per via del botte risposta mediatico con il presidente Sebastiani tre punti rimetterebbero in parte a posto la classifica regalerebbero una sosta più serena con il Delfino pronto a sferrare l'assalto ai playoff nel girone di ritorno in società le operazioni in vista del mercato sono già iniziate retrocesso da titolare di inizio stagione a Panchinaro il portiere Mirco Pigliacelli potrebbe riaccasarsi alla Provercelli in prestito per l'estremo difensore si tratterebbe di un ritorno nella squadra piemontese nella quale ha militato nella stagione 2014-2015 altro indizietro alla partenza con la permanenza di Zeman sulla panchina del Delfino è il centravanti Simone Andrea Gans l'attaccante lasciato i margini dal Boemo fa gola all'Ascoli ma sull'ex Lariano fa un pensierino anche il Foggia di Stroppa che già in estate si era inserito tra il Pescara e la Juventus prima della chiusura della trattativa l'Atalanta come ha detto Zeman in conferenza rivuole indietro Valsania per poterlo girare in un club come il Carpi che gli può garantire impiego maggiore rispetto a quanto avvenuto in rival adriatico un altro che rientrerà alla base ovvero l'Atalanta sarà Latte Latte mai impiegato in stagione in prima squadra per lui appena quattro presenze in primavera ma sono tanti altri fronti da sviluppare Zeman ha battuto tanto sul tasto della rosa troppo ampia difficile da gestire e la dirigenza Bianca Azzura dovrà adoperarsi per snellire e tanto l'organico argomenti che saranno ancora più attuali nei prossimi giorni questa sera intanto la partita col Venezia Cesare Bovo non sarà neanche in panchina il difensore disponibile a intermittenza quest'anno è stato operato ieri per la pulizia della cartilagine del ginocchio destro starà fuori un paio di mesi Benali era finito sotto i ferri per un intervento alla mano la scorsa settimana e tornerà a disposizione probabilmente a febbraio la partita di questa sera dovrebbe segnare il ritorno dal primo minuto di Proietti mentre Valzania forse la sua ultima in biancazzurro dovrebbe essere preferito a Coulibaly nel Venezia Out Falzerane Domizzi recuperato in extremis modulo che dovrebbe spuntarla su Cernuto per un posto nella zona centrale della difesa fischio d'inizio alle ore 20 e 30 con la direzione di Abbattista Di Molfetta TV6 come sempre seguirà la partita con l'ultima puntata dell'anno di Diretta Stadio in onda a partire dalle ore 20 restiamo sempre al calcio adesso scendiamo di categoria andiamo in Serie C per parlare del Teramo grandi manovre di mercato anche in casa Biancorossa manovre che riguardano prevalentemente l'attacco Ciro Foggia sembra il maggior indiziato alla partenza mentre Barbuti complice anche il contratto fino al 2019 dovrebbe restare alla corte di Asta oggi o domani vertice di mercato ma prima c'è la necessità di vendere anche e soprattutto per fare cassa sentiamo Jacopo Forcella più Foggia che Barbuti questa sembra essere l'indicazione sulla cessione che viene dalle prime riunioni di mercato in casa Teramo le manovre per modificare il reparto avanzato di Antonino Asta prevedono certamente il sacrificio di una delle due punte l'ex Melfi finora in 16 presenze ha messo insieme Terreti ma due su calcio di rigore e in generale non ha mai davvero convinto ed è per questo che l'allenatore nelle ultime uscite gli ha preferito Barbuti per disegnare la prima linea l'eventuale risparmio sull'ingaggio del centroavanti napoletano poi sarebbe dirottato su un profilo probabilmente differente magari un uomo più d'area di rigore perché il Teramo in questo finale 2017 ha abbassato drasticamente il proprio baricentro anche a sinistra qualcosa andrà fatto Pietro Antonio il segno rimarrà inorganico perché è giovane e perché merita un'opportunità per poter dimostrare di valere il posto da titolare oggi o al massimo domani ci sarà un vertice della società biancorossa per stabilire le linee programmatiche di gennaio Campitelli si deciderà il budget per la campagna rafforzamenti invernale considerando che non sarà un gennaio di spese pazze con quello a disposizione e con i risparmi derivanti da eventuali partenze Repetto avrà a disposizione un tesoretto per potersi muovere andando a prendere quelle due o tre pedine richieste dall'allenatore che ha chiesto elementi specifici per determinate posizioni non più adattamenti dunque i giocatori poliedrici vanno bene ma adesso serve qualcosa di più ecco perché arriverà una prima punta un esterno sinistro e un centrocampista offensivo tre ruoli da coprire null'altro almeno nelle intenzioni prima però le partenze anche perché altrimenti i margini già non amplissimi di manovra si restringerebbero ulteriormente ed è per questo che il lavoro sarà serrato anche perché il 21 gennaio si riparte contro il Vicenza e sarà un lunghissimo sprint fino al prossimo 6 maggio ed è tutto anche per questa edizione del TG6 io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina youtube non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione www.tv6.it 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 www.tv6.it